Noi tendenzialmente siamo una squadra che meno bassi stiamo e meglio è, questo è chiaro. Mantenere la squadra alta dipende molto dal sacrificio che inizialmente fanno gli attaccanti perché sono loro che determinano dove noi possiamo stare. Quindi se riusciamo a essere aggressivi molto alti possiamo stare, però è chiaro che questo non lo potrai fare per tutto l'arco della partita. La cosa importante, ripeto, è non subire mentalmente il ritmo, non subire mentalmente, credo, anche un po' l'ambiente. Ecco, io quello stadio lo conosco un po' perché ci ho fatto anche il Viareggio con il settore giovanile, insomma ci ho giocato diverse volte ed è un campo che quando c'è molto pubblico si infiamma e quindi da parte nostra è importante rimanere equilibrati. Anche perché è una squadra che, ho guardato un po' nei numeri, è una squadra che spesso ha anche saputo rompere le partite in pochi minuti. Basta vedere con Livorno, credo in 5-6 minuti ha fatto due reti. Quindi è importante proprio questo che ho detto io, avere l'atteggiamento convinto pronti chiaramente a disputare una partita di grande intensità. Il fatto che noi siamo una squadra che comunque fuori casa ha fatto risultati importanti credo che per un periodo di tempo sicuramente avvertivamo in casa una pressione eccessiva, però questo adesso non c'è più. Credo che, anzi mi auguro che in questo finale di campionato si possa non avvertire questa differenza. Dobbiamo fare questa crescita, non avvertire questa differenza tra in casa e fuori. Dare continuità a un allenatore è la cosa più importante che ci sia, però ci devono essere i presupposti. Adesso pensiamo a fare bene perché questo è un campionato terribile e insidioso e come si parla di rinnovo poi si parla di altre cose.